Musica Durante i primi giorni di scuola la professoressa Asciutto ci ha portato nel laboratorio di scienze per mostrarci alcuni esperimenti e spiegarci come procedere seguendo il metodo sperimentale e come elaborare la relazione di un esperimento. Dopo la spiegazione ci ha segnato un compito, svolgere un esperimento e compilare la relativa relazione. Tutti noi abbiamo fatto una ricerca per trovare un esperimento interessante e divertente e che fossimo in grado di capire, realizzabile senza pericoli. Infatti la professoressa ci ha detto di non usare né fornelli né sostanze irritanti. Ognuno di noi ha provato il proprio esperimento e compilato la relazione a casa propria. Dopo che la professoressa ci ha corretto la relazione e spiegato alcuni fenomeni che non c'erano ancora chiari, ogni studente ha mostrato e spiegato a tutta la classe il proprio esperimento. Nelle slide seguenti abbiamo raccolto le foto dei nostri esperimenti e le relative spiegazioni. Speriamo che il lavoro sia di nostro gradimento! Qui possiamo vedere una sintesi delle fasi del metodo sperimentale e la traccia da seguire per scrivere la relazione di un esperimento. In pratica il metodo scientifico consiste in queste fasi. Osservare Lo scienziato osserva in modo preciso e attento un fatto che succede e si fa domande. Pensare un'ipotesi Lo scienziato fa un'ipotesi, cioè cerca una spiegazione possibile per ciò che ha osservato. Verifica l'ipotesi con un esperimento Lo scienziato verifica, cioè controlla se la sua ipotesi è corretta oppure no, con degli esperimenti. Raccogliere e scrivere i risultati Lo scienziato raccoglie i dati e scrive i risultati, che deve poi comunicare ad altri scienziati. Comunicare i risultati e formulare una legge Lo scienziato comunica a tutti quello che ha verificato con esperimenti e formula la legge che spiega il fenomeno studiato. Se copre una candela con un bicchiere, dopo pochi secondi si spegne, perché ha consumato tutto l'ossigeno contenuto nell'aria chiusa dentro il bicchiere. Senza ossigeno la fiamma non può bruciare, non è possibile, cioè la combustione. L'anidride carbonica, come qualsiasi gas disciolto, per allontanarsi rapidamente deve creare delle bolle di gas. Le mentos facilitano la formazione delle bolle di gas, perché quando le bolle incrociano un'area ruvida, come quella delle mentos, il fenomeno viene potenziato provocando forte furscita di schiuma. Consiglio di fare questo esperimento solo in giardino. Consiglio di fare questo esperimento solo in giardino. Dopo essere stato immerso per 24 ore nell'aceto, l'uovo ha perso il suo guscio, perché il guscio è composto principalmente da carbonato di calcio, che è stato sciolto dall'aceto. L'uovo è protetto soltanto dalle due sottili membrane testacee, le sottili membrane che possiamo vedere quando mangiamo un uovo sodo. A base alla legge del magnetismo, per avere una calamita si deve riprodurre un campo magnetico. Quindi ho costruito una calamita usando delle batterie, un magnete e un cavo di rame. In questo caso è la batteria ad alimentare il magnete. Il cavo di rame funge da materiale conduttore. La batteria genera elettricità, quindi il chiodo si riscalda rapidamente. Il chiodo magnetizzato è la calamita, che funziona grazie alla batteria e al cavo conduttore. Se tappiamo con un dito il foro di una siringa e spingiamo, riusciremo a spostare lo stantuffo in avanti, questo perché l'aria è comprimibile. Se rilasciamo lo stantuffo, vedremo che esso torna indietro, perché l'aria torna ad occupare tutto lo spazio che aveva a disposizione in precedenza. Questo perché l'aria è elastica. Grazie. Avvicinando la pallina a un corpo carico elettricamente, ad esempio, una penna stoffinata con un panno di lana, questa ne sarà attirata senza toccarlo, perché la pallina, in presenza del corpo carico, assume una carica opposta, è quella della penna. In una bottiglia ho versato dell'aceto, poi ho versato un po' di bicarbonato all'interno del palloncino. Quando ho chiuso la bottiglia col palloncino, questo si è aggonfiato. L'aceto è composto in massima parte di acqua, oltre il 90%, ed ha una piccola percentuale di acido acetico. E' questo che, a contatto con il bicarbonato caduto dal palloncino dentro la bottiglia, reagisce immediatamente trasformandosi in acetato di sodio. Il prodotto di scarto di questa reazione chimica è l'anidride carbonica, che essendo un gas si espande velocemente e gonfia il palloncino. L'aceto è composto in massima parte di acqua, oltre il 90%, ed ha una piccola percentuale di acido acetico. E' questo che, a contatto con il bicarbonato, reagisce immediatamente trasformandosi in acetato di sodio. Il prodotto di scarto di questa reazione chimica è l'anidride carbonica, che, essendo un gas, si espande velocemente e si sviluppa tanta schiuma. Il galleggiamento di un oggetto, parità di liquido, in cui viene immerso, dipende dalla sua densità. La densità della lattina di Coca-Cola normale è il risultato della combinazione della densità dell'annuminio, della lattina, del liquido contenuto Coca-Cola, dell'anidride carbonica all'interno del liquido dell'aria, nella parte alta della lattina. La media delle densità di questi componenti supera la densità dell'acqua, per cui la lattina fonda. L'unica differenza tra la lattina normale e la lattina light sta nel fatto che la lattina light contiene Coca-Cola senza zucchero. Al suo posto ci sono dei dolcificanti, ma in quantità irrisoria. La mancanza di zucchero rende la Coca-Cola light meno densa di quella normale. Questo influisce sulla densità complessiva della lattina light, che risulta inferiore a quella dell'acqua. Ecco perché la lattina light galleggia. Il movimento di un fluido non avviene tutto insieme, ma per strati, e la viscosità quantifica la tendenza di uno strato a trasferire il movimento a quelli più interni. Alcuni fluidi, ad esempio, si comportano in modo più simile a un solido, il miele. Alcuni fluidi vengono detti non newtoniani, in quanto cambiano la propria viscosità a secondo della forza impulsiva che viene impressa. Se vengono colpiti da una forza molto intensa, diventano molto duri, comportandosi come un solido. Se invece vengono colpiti da una forza poco intensa, si comportano come un liquido. Il fluffy si prepara in vari modi, grazie ad una reazione chimica tra diversi elementi. Lo slime è un fluido non newtoniano. Grazie a tutti. Nessuna magia. Il sacchetto di plastica che è formato da delle lunghe catene di singole molecole. Quando il sacchetto viene bucato con la punta della matita, la catena di molecole non si rompe, ma si divide. Le molecole, così separate, si appiccicano sulla matita e sui bordi delle parti del sacchetto che hanno subito la piccola ferita. In questo modo il buco viene chiuso e l'acqua non esce. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.